Ciao amici, vi informo che sono a 4 partite dal Challenger, sono Master 230 LP in questo momento in cui ti parlo Mi servono 300 circa per essere Challenger E niente, se vi va di passare in streaming, e il fatto che io te lo continuo a ripetere ti fa pensare Ma forse ci dovrei passare un po' lo si arrabbia Niente, dalle 2 alle 6 tutti i giorni A volte anche alle 7 perché sono uno di quei lavoratori che madonna mia, eh, gli schiavi in Cina possono accompagnare solo Ma non fa un cazzo, lo so, scusa Ah, questa partita è fighissima, l'ho carriata, eh Non è vero neanche questo Però vi voglio bene, questo è vero Niente, buona giornata Sono veramente, sono veramente, sono veramente euforico Questo è per tutti i ragazzi che sono in chat a seguirmi adesso in questa Road to Challenger Alte 7 partite sarebbe sufficiente per fare il Challenger in questo momento Ma noi ne vogliamo vincere almeno 22 di F.E.A.L. Non posso grabare i Caitlyn perché c'erano troppi mie Questo danno che ho passato alla cui Caitlyn è veramente stupissimo Quello era un bel grab ma forse era un po' troppo ovvio In ogni caso Karma ha sprecato l'AR, ecco, quindi va bene Oh man Oh man C'ho provato a doggiarlo ma Ma che sta scrivendo Shivan è grande Shivan è gigante Shivan è gigante Shivan è gigante Lol ma è gigante Non sono riuscito a doggiarlo in tempo Mi ha stannato Sindra Lol Ragazzi anche secondo voi se perdete la linea della partita è persa Perché trovo sicuramente una mentalità abbastanza positiva con le Orianna Caitlyn non ha il flash Ma che è stanno a 5 ma che è stanno a 5 ma che è stanno a 5 no 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 Oh no Nice 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 No God please no 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 Fuck you Oh Non fa niente Allora ho convinto Do just Scusate Ho pericolato il grab sulla torre Ma non il non dodge Poi non era tanto probabile Che do just Anche perchè era già difficile proiettare il grab In base a cosa scelgo sui build Redemption prima del locket Guarda se vuoi una risposta da pro player Non l'avrai Perchè impedite che lo builda a cazzo di Kano Guarda se vuoi una risposta da pro player Grazie mille per il sub Grazie mille per il sub Ragazzi non è vero che non ho reagito allo stile del baron Grazie mille per il subito Grazie mille per l'avrai Oh, ho sbagliato, cazzo Oh, oh Oh mi like